E ad un'anteprima della casa tedesca BMW diamo seguito a una vettura che inizia il suo percorso commerciale, inizia la commercializzazione, la Audi A6 Avant che arriva anche nel mercato italiano e noi vediamo questo prossimo servizio e vediamo tutte le novità di questa nuova station wagon di casa Audi. Ancora una volta Audi anticipa le tendenze nella classe business con la nuova A6 Avant. Con la sua carrozzeria leggera e le molte innovazioni tecnologiche questa Avant sportiva e confortevole, giunta ormai alla sesta generazione, aggiungerà un nuovo capitolo alla storia di successo della serie. Sin da subito l'elegante Audi A6 Avant lunga 4,93 metri dà l'impressione di elevata agilità, a proporzioni allo stesso tempo sportive ed eleganti e una linea del tetto basa che confluisce nei montanti posteriori molto inclinati. A richiesta i fari e i gruppi ottici posteriori possono essere a LED una tecnologia affascinante sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista estetico. I fari Xeno Plus sono disponibili con le potenti luci audio adaptive light. La nuova Audi A6 Avant stabilisce un nuovo termine di paragone per il peso molto contenuto. Con una carrozzeria costituita per il 20% circa da componenti in alluminio, Audi, pioniere della costruzione leggera nel panorama internazionale, definisce ancora una volta nuovi standard. Rispetto al modello precedente, il peso complessivo è diminuito di 70 kg. La massa a vuoto della A6 Avant 2 litri DVI è ad esempio di soli 1640 kg. Gli interni presentano un design molto dinamico, un'eccellente qualità delle finiture, un equipaggiamento molto generoso e un'ergonomia esemplare. Tra gli optional high end vi sono il head up display, sedili anteriori con funzioni di ventilazione e massaggio e un intero sistema modulare di componenti di infotime, al cui vertice si trovano il sistema di navigazione con disco fisso MMI Plus con touchpad. Audi propone la nuova A6 Avant in 5 motorizzazioni a iniezione diretta, 2 a benzina e 3 TDI che erogano potenze comprese tra 177 CV e 300 CV e successivamente seguirà un 3 litri TDI biturvo da 313 CV. La potenza superiore va di pari passo con un'efficienza esemplare, i consumi sono diminuiti del 21% rispetto al modello precedente. La 2 litri TDI ad esempio vanta consumi medi di solo 5 litri di carburante per ogni 100 km. Tutti i propulsori si avvalgono delle tecnologie del sistema di efficienza modulare Audi. A seconda della motorizzazione, la nuova A6 Avant è abbinata a sistemi di trasmissione diversi, cambio manuale a 6 marce, multitronic a variazione continua, tiptronic a 8 rapporti ottimizzato per cambi marcia rapidi, o lo sportivo S-Tronic a 7 rapporti. Oltre alla trazione anteriore è disponibile anche la trazione integrale permanente 4. A richiesta, il differenziale sportivo ripartisce le forze in modo flessibile tra le ruote posteriori. L'autotelaio dalla struttura articolata concilia dinamismo sportivo e comfort prestigioso. Il sistema Audi Drive Select con modalità efficiency è di serie per tutte le motorizzazioni sovralimentate. Il nuovo servosterzo elettromeccanico è improntato alla massima efficienza. Nelle versioni a trazione anteriore, il programma elettronico di stabilizzazione ESP con meccanismo elettronico di bloccaggio trasversale rende l'handling ancora più preciso. Come optional sono disponibili le sospensioni pneumatiche Adaptive Air Suspension e, in un secondo momento, lo sterzo dinamico. La prevendita dell'Audi A6 Avant è iniziata a giugno 2011 e il prezzo di vendita è a partire da 45.300 euro.